Io rappresento lo SMAPS, il sindacato misto dell'Avonpeis Savoia e siamo capofila della 4.1. Lavoriamo sui servizi sociali, abbiamo lo scopo di migliorare l'accessibilità ai servizi sociali. Lavoreremo dunque alla sperimentazione di nuovi luoghi, luoghi in cui ci saranno servizi diversi sul campo sociale. Lavoreremo anche sul campo della mobilità, rendere più accessibili i servizi sociali e lavoreremo anche a chiederci quali sono i nuovi servizi di cui hanno bisogno le nuove popolazioni dei nostri territori rurali. Noi siamo capofila di questo progetto e lavoreremo anche con Coldiretti, Città Metropolitana e Arliser. Siamo quattro partner su questo progetto sociale, sull'argomento del sociale.